Nonostante siamo bombardati costantemente da messaggi che ci fanno pensare che il formato full frame sia il più adatto, il migliore in ambito video e foto, io continuo a pensare che il formato APS-C in realtà sia quello più versatile, per tutta una serie di motivi. Porta con sai infatti tanti vantaggi come dei pesi e dimensioni generalmente minori, una più facile gestione dello sfocato, una migliore possibilità per quanto riguarda la stabilizzazione perché il sensore è più piccolo, lo sappiamo bene come il micro 4 terzi ad esempio ha una stabilizzazione migliore, molto migliore rispetto al full frame e non per ultimo il fatto che generalmente i prezzi per un APS-C sia corpo macchina che obiettivi è inferiore a quello di un pacchetto full frame. Tuttavia questa situazione dove tutti cercano il full frame porta anche degli effetti collaterali, ovvero i produttori di obiettivi tendono ad avere un po' come si dice, le braccine corte nella realizzazione di obiettivi specifici per l'APS-C, preferendo investire magari nel full frame, anche perché generalmente le ottiche full frame si possono montare anche nelle macchine APS-C. Tuttavia nonostante questa possibilità il reparto grandangolare sembra soffrirne parecchio, infatti è molto difficile trovare delle ottiche valide, possibilmente luminose per il sistema APS-C Sony. Per questo motivo ti porto oggi in questo canale quelle che sono in questo momento secondo me le due migliori ottiche grandangolari per APS-C e sto parlando del noto Sony 10-18 f4 ma anche del nuovo Tamron 11-20 f2.8. Come vedi sono delle ottiche differenti per quanto riguarda l'apertura, mentre per la focale sono molto molto simili, ma voglio fartene vedere tutti e due e farti conoscere quali sono secondo me i pregi e i difetti di entrambe le soluzioni in modo da farti decidere in modo più consapevole quale potrebbe essere la scelta più adatta a te. Appena tirati fuori dalla scatola entrambe gli obiettivi si presentano dal punto di vista dei pesi e delle dimensioni piuttosto simili. A dire il vero il Tamron utilizzando la focale massima e minima ha un'escursione un po' più ampia, un po' più ingombrante, un po' più lungo rispetto al Sony ma sono secondo me delle differenze che non vanno ad incidere sulla scelta che una persona dovrebbe fare. Dal punto di vista dei materiali sempre a primo impatto quando li prendi in mano vince di brutto il Sony. Con il Sony è robusto, senti la presenza di materiali pregiati come il metallo, mentre per il Tamron quando lo prendi in mano hai l'impressione di avere in mano un plasticotto, appunto è tutto in plastica. Però per spezzare una lancia a favore del Tamron va detto che questo è sigillato a delle guarnizioni, è resistente alle intemperie, mentre il Sony no. Quindi c'è questa differenza ma sempre il primo impatto ti dà questa impressione, poi dal punto di vista dell'utilizzo ti rendi conto che il Tamron e il Sony funzionano esattamente allo stesso modo, sono entrambi molto molto resistenti. Per quanto riguarda l'angolo di campo anche qui non ci sono grandi differenze, abbiamo lo scarto di 1 mm sulla focale minima, 11 mm per il Tamron e 10 mm per il Sony, mentre nella focale massima abbiamo i 20 mm per il Tamron e i 18 mm per il Sony, quindi nella focale massima il Tamron ti permette di avere un leggero ingrandimento in più. È una differenza minima, però sul grand'angolo, specie alla focale minima, si riesce un po' a notare questa differenza, quindi tienila in considerazione ma ne parleremo dopo quando vedremo l'aspetto fotografico di questi due obiettivi. Le differenze tra questi due obiettivi si cominciano a riscontrare in modo più tangibile quando si parla di apertura della diaframma, infatti il Tamron arriva fino al 2.8 e il Sony solo fino ad f4 e questa differenza comincia a farsi sentire per la gestione dello sfoccato dove il Tamron ti permette di avere una marcia in più, ne parleremo dopo più avanti, ma sarà questo secondo me uno dei fulcri che dovrà farti propendere verso un modello rispetto all'altro in base all'uso che ne andrai a fare. Un'altra caratteristica che differenzia questi due obiettivi è la minima distanza di messa a fuoco, quella del Tamron è veramente impressionante, puoi mettere un oggetto praticamente dentro il paraluce e l'obiettivo riesce a mettere a fuoco l'oggetto e i particolari e questo ti dà degli sbocchi creativi veramente interessanti e va a strizzare l'occhio anche agli appassionati di macro che possono realizzare qualcosa di interessante. Per il Sony invece le cose non vanno bene, ha una minima distanza di messa a fuoco molto molto lontana e quindi anche legata a quel diaframma F4, lo vedremo dopo con lo sfocato, non è che ti renda poi le cose così facili. Sicuramente dal punto di vista creativo non puoi fare tante cose, però ancora una volta dipende che cosa devi fare, ma te ne parlerò fra poco. E infatti adesso ti darò qualche opinione dal punto di vista dell'uso che dovrai fare degli obiettivi per capire quale potrebbe essere più interessante per le tue necessità, perché c'è anche una differenza di prezzo da tenere in considerazione. Parto subito col dire che dal punto di vista dell'autofocus entrambi gli obiettivi vanno benissimo, quindi non avrai nessun tipo di problema da questo punto di vista. Ma adesso iniziamo col guardare gli obiettivi dal punto di vista fotografico. In questo contesto considerate le focali sulle quali vanno a lavorare, secondo me l'uso più comune che andrà fatto di questi obiettivi è la paesaggistica in ambito fotografico. Quindi ecco che avere un diaframma 2.8 o f4 non cambia tanto e potrebbe quindi far preferire il Sony per la sua magari più compattezza, leggerezza e anche il costo, lo vedremo dopo, inferiore rispetto magari al Tamron. Certo però che quel 2.8 di apertura ovviamente ti dà dei vantaggi in determinati contesti, quando magari vuoi riprendere un paesaggio notturno con il cielo stellato, ecco che un diaframma più aperto ti permette di tenere gli ISO un po' più bassi o di ottenere un'immagine tecnicamente forse migliore. Insomma il Tamron vince da questo punto di vista se devi fare delle riprese, delle foto notturne. In ambito video invece le cose vanno viste con un po' più di attenzione. Come ti ho detto dal punto di vista dell'autofocus non ci sono problemi, l'angolo di campo è grossomodo lo stesso, però questa apertura 2.8 del Tamron ti dà sicuramente una marcia in più, ti dà una marcia in più a creare lo sfocato, a staccare il soggetto con lo sfondo. Adesso io sto facendo questo video con il Tamron e come vedi c'è uno stacco con lo sfondo, comunque piacevole, si nota questa differenza. Ecco con il Sony le cose sono un pelino più complesse, perché l'F4 quindi una chiusura di deframa maggiore associata al fatto che ha una minima distanza di messa a fuoco, molto più distante, quindi devo stare più distante dall'obiettivo, crea uno stacco meno visibile, meno concreto. E quindi ecco dal punto di vista delle riprese, dei vlog, il Tamron secondo me è migliore in ambienti più chiusi, dove lo spazio è ridotto, ovviamente in esterna potrebbe andare bene uno o l'altro in modo indifferente. A prescindere dalla scelta che tu vorrai fare, ti posso dire con sincerità avendoli provati ed utilizzati entrambi per parecchio tempo, prima con l'Alfa 64 avevo il X-18 della Sony e adesso sto utilizzando il Tamron con la ZV-E10, ti posso dire che sono entrambi ottimi obiettivi e c'è solo questa differenza a tenere in considerazione. Se anche tu vuoi creare uno sfocato tipo quello che vedi in questo video e hai un ambiente piccolino come il mio, ecco che allora magari potresti puntare sul Tamron. Se però fai delle riprese in condizioni dove la luce non è un problema, quindi puoi anche chiudere il diaframma o sei in esterna, allora forse anche il Sony può essere una soluzione interessante e non ti creerà tanti problemi, non è quella differenza di sfocato che cambia le cose. Tirando delle conclusioni finali, io parto col dire che secondo me sbagliano i produttori a non investire nel formato APS-C e nei formati minori. Lo vediamo come riescono, la tecnologia ce lo permette a realizzare delle ottime cose con dei sensori molto più piccoli, non capisco perché stanno spingendo tanto verso il full frame e non investendo sulla PSC dove si potrebbero fare tante belle cose. Certo, l'ho detto prima, si possono utilizzare le ottiche full frame sul formato APS-C, lo conosciamo bene in Sony che ha l'attacco unico, però sappiamo anche che grandangoli estremamente spinti per full frame che dopo vanno bene sulla PSC e ti permettono di avere un grandangolo decente e non ce ne sono tante, anche perché grandangoli spinti in full frame generalmente sono fatti per i fisciai. Gli uniche cose che troviamo sono appunto questa tipologia di obiettivi, il Sony 10-18 ormai è un progetto vecchio però ha uno schema ottico con i suoi anni ed il nuovo Tamron 11-20 che però hanno dei costi elevati. Infatti è questo secondo me il motivo per il quale, parlando di prezzi, troviamo il Tamron su prezzi che vanno dagli 800 ai 900 euro e secondo me sono dei prezzi veramente eccessivi, un prezzo troppo alto per un prodotto che quando prendi in mano te l'ho detto sembra un plasticotto, fatto bene ma è un plasticotto. Però non ci sono alternative, quindi non ci si può lamentare se vogliamo questa tipologia di obiettivi dobbiamo puntare in questa tipologia di prodotto, tirare fuori a carta di credito. Anche per i Sony però non sono rose e fiori, un obiettivo 10-18 f4 con ormai i suoi anni, con le sue caratteristiche che non è poi così perfetto, bellissimo. Ecco che ancora vederlo a questi prezzi così alti, secondo me costa meno dal Tamron ma comunque secondo me prezzi alti non va bene. Dovrebbe essere innovato, creato un qualcosa di più interessante, adatto per la PSC. Detto questo però, te lo ripeto, non ci sono tante alternative, io ti ho fatto vedere questi due prodotti, decidi tu se vuoi fare un investimento da una parte o dall'altra in base a se fai più foto o se fai anche video. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto mettici un like, se non sei ancora iscritto iscriviti al canale e metti un clic sulla campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo vai qui sotto nei commenti e dimmi un po' cosa ne pensi di questi due obiettivi. Ciao, da Alessio. 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 Alessio.